Si era ancora insediato il nostro inviato nel capoluogo campano, Matteo Parlato. Qui a Napoli, nonostante questa notte si sia molto lavorato, la situazione rimane difficile. Questo grande cumulo di immondizia è uno dei tanti che sono qui per strada. E come giustamente detto te, il sindaco ha parlato ed è ritornato a ribadire il concetto che ci sono delle forze che lavorano, che quasi non hanno interesse a che Napoli sia liberata da tutta questa pattumiera, indifferenziata peraltro, che la sta soffocando. Nel frattempo c'è questa inchiesta della magistratura per epidemia colposa, perché qui ora siamo già oltre 30 gradi, poco fa ho visto un termometro che segnava 34. Potete immaginare che cosa può succedere, quale cultura batterica ci può essere in un cumulo del genere in questo momento e questo non è il solo. Purtroppo qui a Napoli di cumuli così ce ne sono tanti, si sta lavorando, si sta lavorando duramente per cercare di rimuoverli tutti, per portarli fuori da qui. Però ancora la situazione è veramente difficile, vedete i residui organici, la situazione è molto difficile, il malato è stato stabilizzato, ma ancora è in prognosi riservata. Non è preoccupato...